Alcuni di voi, molti forse già conoscono Matteo, Matteo dopo la laurea a Pisa è andato un po' a esplorare l'Europa, l'ha girata abbastanza, ha dato il dottorato a Edimburgo, è stato proprio in Germania, a Bonn, poi a Vitroamericuri all'ETH, se dimentico qualcosa, e ad oggi insegna a Ginevra, dove coordina il gruppo di Cluster Deformation e Fluid Flow. Matteo nasce appunto come vulcanologo, ma di fatto poi ha sviluppato tante tecniche di geofisica e si occupa dello studio della deformazione costale, dei terremoti, della circolazione di fluidi, e questo applicato a tante tematiche, tante circostanze, allo studio dei mari vulcanos, allo studio, vari studi geodinamici, dei processi vulcanici e anche molti studi legati alla geotermia. E oggi ci parlerà di un suo studio recente, fatto nelle Ande Meridionali, basato sostanzialmente sulla deformazione tettonica di questo settore delle Ande, utilizzando la sismica passiva. Quindi ringrazio ancora Matteo per essere qui con noi e gli lascio la parola. Grazie Domenico, grazie a tutti voi per avermi invitato e avermi dato questa opportunità, è sempre bello sentirsi un pochino più vicini anche durante questo periodo. Ho cercato di mettere insieme un lavoro a larga scala che trattasse fondamentalmente di tettonofisica, quindi utilizzeremo metodi di sismica passiva per cercare di investigare nella deformazione crostale, un pochino spingendo il concetto di quello che come geologi o scienziati della Terra abbiamo sempre avuto in mente. Per quanto mi riguarda io, come ho detto Domenico, sono a Ginevra dal 2015, dove ho messo in piedi il gruppo di deformazione crostale e trasporto di fluidi, quindi ci occupiamo essenzialmente di terremoti e come fondamentalmente i fluidi attraversano la crosta e si possono localizzare in determinati comparti a livello crostale. Il gruppo al momento è formato da circa tre dottorandi, quattro dottorandi, tre postdoc e altri studenti di master, e ringrazio tutti i ragazzi in anticipo per il lavoro che abbiamo portato insieme avanti anche su questo studio. Quindi per dare un riassunto breve di quello di cui andremo a parlare nel giorno d'oggi, cominceremo con una breve introduzione sulle ande, sulla struttura andina, e poi partiremo su una prima parte un pochino più geofisica, dove ci sarà un'introduzione a dei metodi che vengono normalmente utilizzati per la prospezione della crosta superiore, e questo fondamentalmente si relaziona a un lavoro pubblicato da Diego Gonzales, a suo tempo uno studente che ha fatto il dottorato con noi, dove si presenta le strutture delle ande e poi utilizzeremo queste strutture e le ande per relazionarci al terremoto del Maule del 2010 e approfondire le relazioni tra terremoti e deformazione crostale transiente, e quindi non una deformazione a lungo termine, ma una deformazione che può essere messa in posto e causata soltanto per diciamo decennio. Finiremo con alcune conclusioni, magari alcune spero siano stimolanti per la discussione. Per dare alcuni numeri, cominceremo, quindi le ande sono una catena dovuta alla subduzione, dove la placca, la Nazca Plate in questo caso, comunque il Pacifico, subduce al di sotto della placca americana, la placca sudamericana, e abbiamo quattro compartimenti andini nell'America del sud, le ande del nord, le ande centrali intorno al Peru, il segmento che studieremo noi oggi, che sono quello intorno a south 36-35, dove la subduzione è caratterizzata da una subduzione obliqua, e poi ci sono le ande australi nella parte inferiore dell'America, la meridionale dell'America del sud. Allora, perché abbiamo cominciato questo studio? Innanzitutto quando... Questo studio è iniziato durante il mio progetto all'ETH con la Marie Curie e c'era stato di recente il lavoro di Moreno e questa è tutta una serie di terremoti, di grandi sovrascorimenti, quindi Sumatra, questo terremoto qua e quello del Giappone, e volevamo vedere come questo poteva, diciamo, avere un'influenza sulla tettonica della crosta superiore, a corto termine. Abbiamo scelto il terremoto di Cile perché rispetto al Giappone, che è veramente ben studiato, e l'Indonesia, in cui è abbastanza difficile dal punto di vista logistico effettuare alcuni studi, il Cile è comunque un paese molto aperto, dove io al tempo andivo dalla Germania, quindi la Germania è molto presente, in America del Sud, e inoltre quando cominciamo a vedere, a studiare questi terremoti, questo cross, quel terremoto del Mauro nel 2010, siamo accorti che la distribuzione dei vulcani, se uno se si cerca di congiungere la distribuzione a larga scala di alcuni edifici vulcanici, questi hanno un'orientazione nord-ovest-sud-est, che è fondamentalmente antitetica alla direzione di subduzione sud-est-nord-est-sud-ovest, il che non torna in termini di sigma 1, poiché tali deformazioni in teoria non dovrebbero essere così prominenti in relazione a un sigma 1 con direzione nord-est. Inoltre, al momento di sottomettere questo proposal, erano stati pubblicati questi due lavori su Nature Geoscience, che abbordavano lo stesso problema, ma su due contesti differenti, quindi il Giappone e il Cile, ed entrambi mostravano che, seppure a 350-300 km dal trench, la catena andina e le catene vulcani che subivano una perturbazione a causa di questi grossi eventi da sovrascorrimento. Quindi abbiamo cominciato a lavorare su questi sistemi, e per entrare un pochino più in dettaglio del quanto riguarda il sistema Cile, siamo in una zona di svincolo, quindi abbiamo una subduzione obliqua a nord-70, una cosa del genere, che subduce a, diciamo, 7 cm per anno, e nella parte meridionale c'è una faglia strike slip ben sviluppata, quindi una faglia sinistra legata allo strain partitioning della subduzione e un sistema vulcanico che si sviluppa lungo quella che viene chiamata la Lichinia of Kifold, esattamente come in Sumatra, come in questi grandi sistemi. Però in questa regione, che è presa in esame, noi vediamo che c'è uno svincolo e da una struttura dove c'è un Sigma 1 fondamentalmente verticale con lo sviluppo di questa Lichinia of Kifold, si passa a quella che è stata descritta fino ad oggi in letteratura come una trust and fallback, quindi strutture, grosse strutture, grossi anticlani, anticlinali e sinclinali, sovrascorrimenti e una zona appunto di svincolo, di transizione tra questo stress system e trust and fallback. Questa zona è una zona particolare perché se andiamo a vedere fondamentalmente l'espessimento crostale dell'America del Sud, si vede che questo espessimento crostale termina esattamente nella regione in cui abbiamo preso in esame per questo studio, quindi questa zona qui si riduce lo spessore crostale e quindi termina in questa zona qua. Inoltre questa anomalia crostale si propaga verso sud-est e sembra essere troncata esattamente in questa zona qui. Per quanto riguarda la geologia a grande scala, la zona di studio prevede fondamentalmente la zona di soluzione, quindi un trench, quella che viene chiamata la cordillera costale, quindi sono fondamentalmente dei plutoni paleozoici o anche fino al mesozoico inferiore, molti di loro sono graniti, sono dei graniti, un bacino centrale, quindi è la zona di Avanarco, che viene chiamata via central, quindi bacini sedimentari, e la catena andina attuale, dove ci sono semplicemente delle messe in posto di plutoni quaternari, piocenici quaternari. Questa zona, come ho detto, è una zona abbastanza particolare e questa discontinuità è stata, diciamo, il limite di questa discontinuità tra nord e sud che abbiamo appena visto, è stato identificato con uno di questi fantomatici lineamenti, in questo caso è chiamato il corti cordillera linea, il corta deras lineament, che si pensa sia una discontinuità crostale che va giù fino al mantello. Ci sono varie interpretazioni per questa discontinuità, non è mai stato identificato, però molti studi di campagna e di terreno, anche la scuola di Vittor Ramos in Buenos Aires, tende a mostrare evidenze per queste, evidenze strutturali per la presenza di questa discontinuità nord ove sud est, fondamentalmente antitetica al vettore di subduzione principale. Se facciamo una sezione da ovest ad est, vediamo che il magmatismo diventa sempre più basico e fino a dove da ovest ad est, quindi la cordillera costale, che abbiamo visto prima sono semplicemente, come detto, dei plutoni che si sono impilati e vedremo la loro struttura sismica nelle prossime slides. Avremo una valle centrale e poi la messa in posto appunto del complesso andino con andesiti fondamentalmente, sono andesiti di arco. Ok, partiamo con un pochino di geofisica, geofisica passiva. Se vogliamo avere un'immagine di quello delle strutture, dei corpi che si possono trovare all'interno, al di sotto, nella crosta superiore, abbiamo vari metodi a disposizione. Uno di essi è ad esempio la geofisica a riflessione e a riflazione. Questa è una sismica attiva e per capirci è la sismica che viene utilizzata per, che è stata utilizzata per il crop, quindi abbiamo una sorgente di energia, molte volte delle esplosioni o dei camion vibranti e si sollecita quindi delle onde sismiche che attraversano e campionano la nostra struttura interna. Se vogliamo evitare di avere questi metodi geofisici ed andare più su dei metodi che utilizzino la sismica passiva, molti studi utilizzano quella che viene chiamata local earthquake tomography. Fondamentalmente i terremoti agiscono come sorgenti di energia e le onde rilasciate attraversano le varie strutture crostali e vengono registrati da vari sensori, quindi dei sismometri disposti sul terreno. L'idea è sempre la stessa, quindi energizzare la nostra struttura e invertire per ricostruire la struttura crostale. Questo sistema purtroppo a volte è molto dipendente dalla presenza di terremoti e dalla loro distribuzione, quindi ci vuole una distribuzione, è suggerita una distribuzione piuttosto omogenea di tutte le risorse in modo da avere una illuminazione delle nostre strutture in maniera omogenea. Nel nostro caso, nel nostro studio, abbiamo utilizzato quello che viene chiamato ambient noise tomography, che è un metodo che utilizza il rumore che è continuamente presente nel sistema Terra, quindi questo sistema implica la presenza di stazioni sismiche e dalle quali elimineremo tutti i terremoti e questo è un sistema che è stato sviluppato direi essenzialmente dalla scuola francese, Shapiro e Campio a Parigi dove hanno realizzato che c'è un segnale coerente che viene generato ad esempio da delle onde di pressione generate dalle grosse tempeste negli oceani anziché del segnale ad alta frequenza che viene generato ad esempio per la risonanza di venti forti in catene montuose, segnali antropici e questo segnale si propaga di maniera in modo consistente attraverso la litosfera superiore. L'idea è che se io ho due stazioni sismiche la stazione A e la stazione B questo segnale attraverserà prima la stazione A e poi la stazione B con un certo ritardo che è proporzionale alla velocità delle proprietà petrofisiche delle proprietà fisiche delle rocce attraversate e della distanza tra le due istituzioni. Quindi io con un semplice metodo di cross correlation posso cercare di cross correlare il segnale consistente tra varie stazioni sismiche così facendo il segnale che è un segnale disturbo dovuto a scattering locale si cancella automaticamente mentre il segnale consistente e proprio della sorgente viene ritenuto e così da poter aiutarmi a campionare la struttura fisica delle rocce attraversate da questo segnale da varie stazioni quindi in questo caso se io ho tre stazioni sismiche riuscirò ad avere il campionamento tra tre traiettorie quindi una, due e tre aumentando il numero di stazioni aumenta la mia densità di campionamento ed è per questo che noi geofisici vogliamo sempre avere più stazioni possibili e più strumenti possibili per aumentare la densità e ridurre l'incertezza relativa all'interpolazione utilizzando onde sismiche quindi è possibile anche utilizzare dei filtri per i periodi di queste onde quindi delle onde con diversi periodi arriveranno a campionare più o meno in profondità e ciascuna di queste onde che ne so una onda un'onda a due secondi con una lunghezza d'onda a due secondi mi permette di analizzare di avere una penetrazione fino intorno diciamo ai due tre chilometri di profondità in soldoni mentre delle onde al del periodo più lungo arriveranno a campionare profondità più grande semplicemente perché la lunghezza d'onda è più è più è più elevata è più ampia e l'ampiezza e quindi più è maggiore detto questo passiamo a vedere l'esperimento che abbiamo fatto nel 2013 terremoto nel 2010 nel 2013 abbiamo installato esattamente 20 stazioni sismiche all'interno delle onde quindi il primo esperimento che installa così tante stazioni all'interno di una catena alpina di una catena di una catena montuosa tutti gli altri esperimenti sui megaterremoti si sono sempre focalizzati sulla zona dove la deformazione è stata più rapida più lenta e più e la logistica è stata più accessibile quindi tutta la zona di Avanarco e molti di questi esperimenti Cile per i tedeschi del GFZ giapponesi anche in indonesia sono sempre focalizzati sulla zona di Avanarco ma noi volevamo vedere appunto la deformazione di queste strutture nell'arco vulcanico quindi abbiamo messo queste 20 stazioni evidenziate in rosso ci siamo collegati abbiamo utilizzato implementati i dati delle stazioni della rete dei cileni e così facendo abbiamo avuto cura che il network fosse prospicente a una delle due zone di massima deformazione causate dal terremoto quindi qui vedete i due main slip che sono stati invertiti per il terremoto del Maule e il nostro network installato esattamente nella zona di Arco che vede appunto questa massima deformazione da un punto di vista personale questa è stata un'esperienza fantastica perché si parlava veramente di zone remote spedizioni di settimane con 10-12 cavalli con le tende è veramente un'organizzazione logistica che ha richiesto un sacco di lavoro ma che dal punto di vista personale ha dato tanto quindi spero un giorno di poter rifare un'esperienza del genere e mi rendo conto dopo aver fatto appunto questo condotto questa campagna perché così pochi esperimenti sono effettuati all'interno delle catene questa immagine solamente per mostrare che tutti i dati tecnici e questioni relative al checkboard test spike test sono nelle backup slide e non le presento per non andare troppo nel tecnico perché volevo fare comunque un seminario abbastanza ampio per la comprensione generale solamente per dire che in base alla configurazione del nostro network non è stato possibile installare stazioni ovunque quindi la nostra copertura non è stata ideale e queste immagini le danno un'idea dei rai pass quindi delle direzioni coperte dalle nostre stazioni e delle strutture delle porzioni di territorio che è stato possibile investigare quindi per essere chiari questo e anche critici con questo network abbiamo chiaramente bisogno di stazioni nel retroarco quindi in Argentina ma non è stato possibile installarle a causa di permessi e cose varie dunque spero che i risultati saranno comunque interessanti e è stato possibile quindi di derivare dei vari modelli di velocità per la zona della cordillera costale quindi vediamo che in blu i modelli di velocità sono molto più rapidi per quanto riguarda le onde di taglio e per la zona dell'arco sono molto più lenti questo è già un buon feedback che ci mostra come dove osserviamo dei graniti le velocità delle onde siano più rapide mentre dove osserviamo un sistema magmatico attivo le velocità sono molto più lenti oggi parleremo di onde di taglio e è importante fissare il concetto che le onde di taglio sono sensibili vengono molto attenuate e ridotte per la presenza dei fluidi quindi un magma le onde s quindi non viaggiano rapidamente all'interno dei fluidi vengono attenuate e per questo abbiamo delle anomalie negative stesso discorso litologie come i bacini sedimentari e vengono rallentate le onde s sono rallentate all'interno dei bacini sedimentari ora passiamo a vedere le prime sezioni orizzontali confrontiamole con la geologia in blu sono rappresentate anomalie positive di queste onde di taglio e in rosso anomalie negative molto interessante cominciare a vedere la relazione che si può avere tra la cordigliera costale e anomalie positive quindi dove noi vediamo graniti in superficie dove noi vediamo grano di oriti in profondità vediamo appunto riusciamo a mappare a diversi livelli quindi qui siamo a 7 km di profondità la presenza di questi corpi in maniera analoga nell'arco vulcanico nei bacini sedimentari riusciamo quindi a vedere questa queste anomalie negative che ci rappresentano possibile presenza o di bacini sedimentari o di riservoir magmatici interessante vedere come questo cortadera slinament possa avere un'influenza per quanto riguarda il bacino di avanarco e fare come una barriera per questa anomalia andando in profondità le anomalie diventano si attenuano per quanto riguarda i graniti e e piano piano sempre più in profondità vediamo un livello alla crosta alla middle crosta la crosta media dove abbiamo suggerito che tutti ci siano dei laccoliti messi in posto che poi alimentano l'intrusione e l'upwelling di questi corpi granitici questa informazione la vediamo meglio se andiamo nelle nelle sezioni verticali trovo questa immagine molto bella questa è una sezione che va da a prime delle delle onde di taglio e vediamo che questi corpi laccolitici si mettono in pollo chiamano laccoliti semplicemente potrebbero non essere laccoliti questi corpi di sil questi corpi magmatici suborizzontali si mettono si mettono in posto a intorno ai 20 km di profondità e poi da qui dipartono per aprirsi a ventaglio verso la crosta superiore dove le anomalie sono molto più prominenti e dove appunto si osservano questi questi corpi intrusivi in campagna discorso analogo se ci spostiamo verso l'arco vulcanico cominciamo a individuare i riservoir le strutture a grande scala che alimentano i sistemi vulcanici attivi delle ande e la cosa interessante è che appunto queste strutture partono sempre dalla stessa profondità in cui partivano i corpi si sono messi in posto i corpi i corpi plutonici nel paleozoico quindi intorno ai 20-30 km di profondità vedete la base è grosso modo la stessa semplicemente oggi siamo in un contesto attivo e adesso questi plutoni si sono fondamentalmente raffreddati e un'altra cosa interessante è osservare la struttura oblunga di questi corpi arriveremo nelle prossime slide e vedere perché con la prossima sezione vorrei evidenziare che molti di questi corpi di questa anomalia più pronunciate non si collocano spesso immediatamente al di sotto degli edifici vulcanici come vedete in questo caso qua i riservoir magmatici intorno ai 10 km non hanno nessuna corrispondenza con nessun edificio ben sviluppato quindi tutte queste grossi riservoir in the middle crust che pensiamo possano alimentare il vulcanismo odierno non necessariamente si trovano al di sotto del sistema andando avanti abbiamo le stesse osservazioni e vorrei progredire alle prossime slide per avere prima di tutto un confronto con altri metodi gli stessi metodi ma più a larga scala che abbiamo che sono disponibili e questa slide semplicemente per puntualizzare che c'è una coerenza tra le nostre indagini e quella a larga scala ma soprattutto vorrei far notare come questi sistemi vulcanici siano sembra confinati da da delle strutture che in questo caso per esempio questa struttura qua quindi oblunga sembra che sia fortemente influenzata a quello che viene chiamato questo cortaderas lineament e quindi è come se i fluidi quindi i fluidi magmi in questo caso si mettono in posto sfruttando delle discontinuità crostali e sfruttino dei percorsi in cui se si parlasse di ground water si direbbe una una trasmissibilità idraulica aumentata quindi zone di frattura in cui questi corpi magmatici si mettono in posto abbiamo proposto un modello concettuale dove queste dove alla larga scala questi corpi magmatici che si mettono in posto intorno a 25 km vengono alimentati da un complesso di sheeted dykes che alimentano delle strutture magmatiche molto ampie intorno ai 10 km nella crosta diciamo superiore che poi rialimentano delle strutture delle camere magmatiche che qui con i nostri metodi con la nostra inversione non riusciamo con il nostro netto non riusciamo ad identificare ma che sono chiaramente presenti come evidenziati dagli studi petrologici che alimentano poi quelle che sono il vulcanismo il vulcanismo attuale ok però per adesso come riusciamo noi a passare da mettere insieme queste informazioni dal punto di vista geofisico delle osservazioni geologiche come abbiamo visto la geofisica ci dice chiaramente che passiamo da un contesto di strike slip ad un contesto di trust and fall belt qui vediamo nell'arco questi sono terremoti invertiti per l'arco vulcanico dove si vede chiaramente una deformazione compressiva nell'arco mentre nella fascia inferiore una deformazione laterale e per la zona in cui che abbiamo studiato oggi prendiamo un esame oggi non ci sono eventi sismici il nostro concetto quindi il nostro scopo sarà quindi cercare di apportare più informazioni per quanto riguarda questa zona di svincolo tra un sistema strike slip e un trust and fall belt che è identificato appunto con metodi di geofisica passiva e in particolare esiste questo corredere alineamento e perché ci sono questi sistemi vulcanici orientati a nord ovest quando io in realtà ho un sigma 1 che va a nord est sono questi relativi a semplicemente la reattivazione di strutture antitetiche al sigma 1 però perché sono così sviluppate perché i vulcani non si molti di questi sistemi non si allina lunga una direttiva nord est per far questo prenderemo un esame gli effetti dei grossi sovrascorrimenti sulla deformazione tettonica a lungo termine quindi noi vediamo grazie ai dati gps che ci sono delle deformazioni molto forti imposte dai grossi sovrascorrimenti sulla deformazione della tettonica della scusate della placca superiore e dal punto di vista della geologia classica queste grosse perturbazioni non sono mai state prese in considerazione abbiamo sempre pensato alla deformazione geologica come una deformazione su milioni di anni con un dei stress tensor che avevano una variazione graduale nel tempo e non rapida bene i gps ci fanno vedere e la geofisica odierna ci mostra che possiamo parzialmente mettere in discussione alcune di queste osservazioni questa è la deformazione lungo il cile nel cile causata al terremoto del maulo nel 2010 è stato un terremoto di magnitudine 8.8 uno dei più grandi terremoti dello scorso secolo e nella nostra zona presa in esame quindi la sezione B a B primo vediamo che al di sotto della catena volcanica c'è stata tutta una serie di deformazioni nella crosta inferiore quindi intorno ai 20-25 km di profondità stesse profondità che vedevamo prima con della sismicità prominente il nostro vulcano quindi che prenderemo ora in esame per studiare il sistema è uno di questi sistemi a orientazione nord-ovest sud-est è un vulcano che si chiama Nevados de Cian in realtà è un complesso vulcanico e non abbiamo effettuato uno studio vulcanico ma semplicemente uno studio di tettonico fisica nel farfield dove abbiamo preso in considerazione la tettonica registrata ai sistemi di faglia nell'intorno del vulcano e anche nella parte prossimale no? ok c'è stato dopo il terremoto del Maule una serie di terremoti che strike slip in questa zona che non corrispondevano scusate alla deformazione registrata prima del terremoto quindi vediamo dopo il terremoto una deformazione strike slip in confronto a quella relativa a dei sovrascorrimenti che vedevamo nella fase pre-sismica e abbiamo cominciato a porci le questioni inoltre vari studi tra i quali quelli menzionati prima su Nature Geoscience di Pritchard mostrano che molti di questi sistemi volcanici hanno subito una rapida subsidenza nei mesi che hanno seguito questo grosso sovrascorrimento il lavoro di Bonali e molti altri collaboratori hanno mostrato c'è stata una perturbazione anche a livello di normal stress sul sistema andino quindi un unclamping di questo sistema che possa aver promosso che possa aver favorito varie riattivazioni del punto di vista delle faglie quindi un cambiamento del regime tettonico e riattivazione vulcanica questo studio di Klein è uno dei miei preferiti poiché mostra come la deformazione imposta dal terremoto non dura il tempo del terremoto non è che c'è il terremoto un mese dopo tutto finito la deformazione continua e nel far field questa deformazione continua sempre più a lungo quindi è come se si fosse sbloccato un sistema che continua poi a scorrere nel tempo e questo scorrimento è proporzionale alla magnitudine del terremoto quindi anche e non solo nei mesi che seguono il terremoto nei primi due mesi ma fino a quattro anni dopo c'è una deformazione del terremoto della crosta superiore con un'estensione della tettonica della placca superiore noi prendiamo in esame il nevado che è effettivamente chiaramente entrato in eruzione dopo il terremoto immediatamente dopo che abbiamo tra l'altro rimosso tutte le stazioni sismiche quindi eravamo un po' diciamo tristi per usare un enfemismo è stato riattivato e ha cominciato ad essere riattivato con delle strutture che si sono sviluppate lungo una direttiva nord-ovest ci sono state varie diciamo ipotesi per suggerire nello specifico questo allineamento a nord-ovest del nevado stessiano la prima è quella di radice del 2006 che suggerisce semplicemente che questo sia nient'altro che una faglia si sia messo in posto su una faglia antitetica ad un sistema di faglia in una trust and fall belt causato da un sigma 1 a nord-est altri modelli suggeriscono che in realtà ci siano dei lineamenti litosferici a nord-ovest ereditati dal dalla tettonica preandina sulla quale molti di questi sistemi si mettono in posto e questi sistemi possono venire riattivati da sovrappressioni legate ai fluidi esattamente come potrebbe avvenire per esempio in bassa toscana dove hai tu il sigma 2 che cambia secondo le pressioni di poro legate al sistema al sistema vulcanico la tomografia che abbiamo visto prima ci indica che c'è comunque un'anomalia che va a nord-ovest fino a diciamo 9 km di profondità questo è il nostro sistema nord-ovest e questa è l'anomalia che vediamo andare a nord-ovest sono in ritardo leggermente siamo andati sul terreno abbiamo fatto il prossimale distale e le barrette ci fanno vedere le direzioni dei dicchi che sono stati presi sul terreno vedete che nel prossimale tutto va a nord-est scusate quindi il relativo può essere spiegato quindi con un sigma 1 parallelo alla direzione di subduzione odierna ma appena ci avviciniamo al complesso vulcanico ci sono i dicchi che cominciano ad andare a nord-ovest e faglie stesso discorso abbiamo sul sistema delle strutture che vanno a nord-est in maniera preferenziale ma appena arriviamo sul vulcano quando riusciamo a trovare dei sistemi di faglia questi vanno a nord-ovest queste sono le faglie sul terreno strike slip con un dip praticamente verticale transpressional transpressive normalmente compatibile con un sigma 1 a nord-est molte di queste faglie sono intruse da dicchi e qui vediamo fondamentalmente una struttura che va boh sarà 100 metri e al tip di questa struttura vediamo che si comincia a intrudere un dicco che poi genera un'eruzione lavica di strutture quindi anche i dicchi seguono il sigma 1 diciamo intersismico a nord-est queste ci sono un sacco di evidenze che mostrano queste strutture quindi vediamo quindi nord 235 un dip 76 quindi sono strutture transpressive fondamentalmente con dove i dicchi sfruttano queste discontinuità ancora un'altra volta un esempio di transpressiva con un dico che si mette in posto un'altra struttura qua però troviamo delle faglie normali con delle stick and slime super ben sviluppate bellissime non sono dovute a collasso gravitativo ma semplicemente c'è delle strutture così ricalcificate sono comunque hanno delle pressioni rilevanti e queste strutture si osservano diventano sempre più prominenti mano a mano che ci avviciniamo al trench quindi se facciamo un viaggio dall'arco vulcanico fino al trench questo tipo di strutture si trovano pochissimo ma sempre più più prominenti questo è il riassunto quindi vediamo chiaramente una direzione a nord-est qualcosa a nord-ovest e e ruotano nel post-sismico Arbeck ha anche plottato per una serie temporale e si vede che nella fase pre-sismica siamo in regime classico di di subduzione con un sigma 1 verticale con un sigma 1 orizzontale sigma 3 verticale terremoto entrambi vanno a 45 gradi come vedete in questa zona qua e piano piano col passare il tempo ritornano alle loro posizioni originali quindi c'è le tensori di stress del sigma 1 sigma 2 e sigma 3 che varia nel tempo e questa è una prima osservazione abbastanza interessante che ci può aiutare a riconsiderare molti degli aspetti di evoluzione geologica a lungo termine questa è una deformazione è un regime tettonico che si mette in posto e dura per esempio un anno nel 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 trench nel lavanarco abbiamo quindi con il nostro network siamo riusciti a invertire alcuni dei terremoti più più importanti e è super complesso però vediamo che c'è comunque una deformazione laterale importante tutte sono questo è uno strike slip quasi puro però tutti sono comunque hanno una componente una deformazione a componente laterale e se invertiamo questi 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 meccanismi focali questo è stato fatto con stress inverse vediamo appunto che il sigma 1 non è un sigma 1 classico di un regime compressivo ma un sigma 1 che sta con un dip a 45 gradi stesso discorso il sigma 3 quindi siamo in un regime che ha una forte componente laterale che è in un qualche modo diciamo ho sbagliato scusate compatibile con quanto osservato prima da da hardback ok quindi anche noi troviamo dei due sigma che sono nel post sismico però molti molto più tempo dopo hardback cioè parecchi anni dopo il sigma 45 gradi ora mi approprio le conclusioni perché sta questa cosa qua non è la prima volta che si osserva se noi vediamo quanto è stato postulato per il terremoto di Valdivia del 1960 un 9.5 uno dei più grandi terremoti registrati in tempi storici questa deformazione è stata è ancora presente quindi dopo Severa dopo molti decenni è ancora presente l'arco vulcanico è quella che è stata suggerita di aver condizionato l'attività del cordoncauglia e i dati geofisici questo è il secondo studio che mi piace di più ci mostrano che ancora oggi questo è un lavoro del 2006 abbiamo una deformazione essenziva essenzionale nella crosta superiore dopo questo terremoto più di 60 anni dopo il terremoto quindi è un regime che continua vedete le direzioni gps che vanno da est a ovest mentre nel trench si comincia avere il relocking quindi abbiamo le direzioni nella direzione opposta e quindi c'è un'estensione che continua per molte decadi e se vediamo quello che viene chiamato come post seismic viscoelastic relaxation quindi rilassamento viscoelastico post sismico queste isoline ci mostrano la deformazione che ha una deformazione quindi una subsidenza dovuta a questa estensione viscoelastica di 4 mm all'anno per la zona che è stata colpita da questo terremoto e la cosa bellissima è che questo si incentra sul sistema vulcanico qui abbiamo vedete che diventa sempre più prominente mano a mano che ci allontaniamo dalla trench e diventa sempre più prominente lungo l'arco vulcanico questo secondo noi può essere spiegato in vari modi e qui siamo veramente quasi al punto centrale della presentazione quindi noi abbiamo i dati gps e di campagna ci mostrano un sistema dove c'è una deformazione rapida nella crosta superiore immediatamente il terremoto lo slip maggiore si ha chiaramente lungo l'interfaccia tra le due placche e questo viene sempre più attenuato mano a mano che ci si allontana dalla zona di massima deformazione quindi i nostri gps che sono localizzati in superficie ci mostreranno una velocità e uno slip inferiore rispetto a quello che è venuto in profondità chiaramente questo si può calcolare con le inversioni però dobbiamo sempre tener conto che la la riattivazione decelera mano a mano che arriviamo in superficie il relocking invece è inversamente opera in maniera inversa quindi il relocking ricomincia dall'interfaccia e piano piano si propaga sempre più verso la parte della crosta superiore in maniera larga questo relocking si propaga sempre più lentamente verso mano a mano che ci rilontaniamo dalla interfaccia di subduzione quindi il primo relocking sarà nel nella vala nel nell'avanarco o nel trench e poi nel lavanarco e poi nell'arco e poi nel retroarco questo potrebbe spiegare come si mette un posto per esempio un regime tettonico che molti di noi che hanno studiato geologia con un'idea di deformazione su milioni di anni può essere rimessa in discussione per esempio noi vediamo che c'è un sigma 1 nella fase presismica classico dei sistemi di subduzione sia per quanto riguarda nell'arco il trench sia per quanto riguarda anche l'arco dove vediamo dei sistemi sì con una transpressiva ma generalmente abbiamo visto che ci sono dei meccanismi focali sostanzialmente compressivi con un sigma 1 orizzontale dopo il terremoto questo viene perturbato sia nell'arco che nel trench con una rotazione degli stress e questo è stato evidenziato sia dal punto di vista geofisico con dati di sismica passiva sia dal punto di vista geologico con queste faglie normali che abbiamo mostrato quindi qualche nozione sul quale probabilmente riflettere rifacendosi alla prima parte dello studio abbiamo visto che questi grossi reservoir che alimentano magari camere magmatiche superficiali che non siamo riusciti a evidenziare con la nostra tomografia potrebbero non trovarsi immediatamente al di sotto all'edificio vulcanico ma spostati rispetto allo sviluppo di quello che poi è l'arco il cono vulcanico in sé quindi monitoraggio di questi sistemi può essere anche fatto a più larga scala e questa è un'informazione probabilmente per i vulcanologi per quanto riguarda gli strutturali e le persone che lavorano sulla geodinamica è importante realizzare che queste grosse strutture chiaramente non è un'informazione super nuova però è importante puntualizzarla grosse strutture a livello litosferico come possono condizionare la messa in posto dell'arco dell'arco vulcanico delle strutture vulcanico come possono essere in condizionare io lavoro sui vulcani di fango i vulcani di fango sistemi idrotermali sistemi geotermici quindi c'è un feedback continuo tra le strutture geologiche e la messa in posto delle dinamiche più attive più violente che vediamo ai giorni d'oggi queste strutture a nord-ovest fondamentalmente noi abbiamo sviluppato un esempio per una struttura però come abbiamo visto prima ci sono un sacco di strutture a nord-ovest che dovrebbero essere considerate in Cile e poi nel mondo se ci sono contesti analoghi quindi il rapporto tra tettonica presente e passata può essere riconsiderato con queste strutture un pochino discordanti con la tettonica presente e soprattutto non è mai stato considerato nell'evoluzione delle catene il ruolo che queste perturbazioni in sistemi allo stato critico come sistemi vulcanici possono avere sullo sviluppo di una catena prima abbiamo sempre considerato la geologia come un processo a lungo termine e questo è vero però se io prendo un processo a lungo termine e lo perturbo in maniera molto violenta soprattutto nei sistemi critici questo può avere una reazione e questo può riattivare delle strutture che poi mi permettono di avere una messa in posto discordante con quello che vedo oggi studiando la maggior parte delle strutture cirurgiche quindi il messaggio che vorrei lasciare oggi è che abbiamo sempre visto il processo della costruzione della catena delle catene come un processo continuo dove c'è un bilancio tra uplift esostasia ed erosione prendiamo proviamo a prendere in considerazione anche i terremoti e vediamo come questi possano in realtà causare un'evoluzione a scale quindi un'evoluzione in cui hai dei regimi tettonici transienti che in maniera temporale di breve durata possono celare e avere controllo su quello che è il regime a lunga scala vi ringrazio per la vostra attenzione e per l'invito grazie Matteo grazie a te per la bella presentazione se ci sono domande non so se qualcuno ha qualche curiosità sì ciao Domenico sì sì sono Matteo ti sento ti senti ok buongiorno a tutti ciao Matteo sono Matteo anche grazie per la tua presentazione molto interessante dal mio punto di vista anche perché io diciamo dal 2005 di fatto ho lavorato in varie esplorazioni geotermiche proprio in Cile dal nord al sud cioè dal deserto di Atacama proprio fino al nevato del Ciliano al descavisato e anche in Argentina quindi comunque da un lato e dall'altro della Cordillera Andina avevo una curiosità cioè se in questo lavoro o comunque in altri tuoi lavori che probabilmente avete fatto in altri settori delle Ande se li hai fatti hai mai avuto l'occasione di correlare i tuoi dati geofisici geologici con la geochimica dei fluidi quindi con la presenza di acque termali la caratterizzazione chimica geotropica dei fluidi e con magari con dati di flusso di CO2 perché chiaramente questi possono in qualche modo ponire buone indicazioni sulla presenza di strutture e di faglie che permettono e diciamo garantiscono una permianità verticale per quanto riguarda i fluidi e quindi possono essere messe evidenziate diciamo faglie laddove non sono presenti in affioramento chiaro che il target è ben diverso nel senso che i nostri lavori si sono localizzati più su distretti geotermici distretti termali quindi non sono a larga scala anche il target dei fluidi i fluidi geotermici è all'ordine di qualche chilometro due o tre chilometri non sono certo a dieci chilometri però ecco qui magari diciamo l'integrazione di questi dati può dare un'idea di quanto può essere importante la permabilità verticale attiva una struttura dalle profondità appunto della decina dei chilometri fino a poi verso la superficie in aree molto più zone più superficiali fino magari alla superficie questa era un po' la mia curiosità ciao Matteo grazie alla domanda sì tocchi un nervo scoperto in realtà perché ci abbiamo provato mille volte e sembra ci sia una specie maledizione perché prima avevamo cominciato con sembrano a cercare di metterlo strutturale però è coinvolto in questo centro geotermico cileno chiamato seca dove avevamo provato a portare avanti questo studio e il progetto non è stato finanziato seconda volta abbiamo vinto un mariturie e vorremmo vedere questi dati quindi l'idea era quella di selezionare il cordon cauge e utilizzare la camera di accumulo per mappare le variazioni di co2 con delle strutture evidenziate noi facciamo anche geolettrica quindi abbiamo un sistema di geolettrica profonda che è una via di mezzo tra la geolettrica classica e la magnetotellurica che va giù fino a un chilometro e il progetto chiamato Neruda finanziato dalla comunità europea aveva l'idea di combinare queste due cose per vedere quanto profondi possono essere l'idea di fare segnatura no il mando chiudi e questa ragazza prima per fortuna per lei che ha vinto il progetto è incinta quindi ha dovuto fermare il progetto e forse gli è stato proposto una posizione permanente quindi me la sento sgusciare dalle mani ecco però sarebbe fantastico visto che tu hai questi dati sarebbe carino fare un confronto per esempio con quello che vediamo anche a larga scala tra l'altro le stazioni sono ripartite per andare a fare un esperimento con Andres Tassara e Daniel Melnik a Lichigne dove mettiamo 12 stazioni sismiche in combinazione con 8 GPS dovrebbero essere installate in questi giorni e per scopi sia geotermici ma anche di geodinamica quindi i lavori continui sarebbe bello continuare a parlare perfetto poi magari ci sentiamo insomma anche per mail che ci sono vari punti che appunto io avevo anche dei dati proprio del Maule insomma ci sono vari settori del Cile che insomma magari ecco l'avete già studiati quindi che inizialmente anche noi abbiamo sempre diciamo in qualche modo incrociato i dati geologici strutturali ovviamente sono aree molto molto remote quindi è sempre difficile riuscire a fare delle campagne diciamo esaustive e più che ci passi del tempo più ti accorgi che ci ci vorrebbe molto più tempo e non è facile raggiungere quindi ecco più l'integrazione dei dati è fondamentale va bene grazie mille insomma vediamo di tenerci in contatto grazie valentia ciao qualcun altro aveva delle curiosità sì Domenico posso fare una domanda sono Alessandro Santurano grazie per per la presentazione estremamente interessante io avevo una domanda sui dati iniziali fatto vedere di ambient noise che tipo di algoritmo avete utilizzato per invertire il dato e se è un algoritmo deterministico diciamo immagino avete utilizzato uno starting model e quanto questo abbia influito sui risultati se avete fatto un'analisi di sensitività o se avete utilizzato un approccio probabilistico per diciamo capire l'influenza di questo fattore poi un'altra domanda se ci sono dei dati di magnetotellurica o altri dati diciamo geofisici profondi e se avete fatto un confronto un'analisi integrata ok grazie grazie sì per quanto riguarda il modello iniziale abbiamo visto abbiamo provato vari modelli iniziali e l'immagine dell'inversione dove facevo vedere il il modello fondamentalmente all'inizio avevo due modelli tre modelli di velocità il modello della cordillera inizia il modello della cordillera costale cordillera andina e il modello medio siamo partiti dal modello della larga scala del Cile e quindi il modello utilizzato per localizzare per per localizzare gli eventi dal servizio sismologico cileno non chiaramente il modello iniziale è tanto e in questo studio qui non abbiamo fondamentalmente plottato la varianza de varianza la chiamiamo è un è un parametro che ti permette di di vedere quanto il modello che tu puoi inverti si discosta dal modello iniziale in questo lavoro non l'abbiamo presentato però abbiamo poi sviluppato un modello per l'inversione probabilistica all'interno del nostro gruppo di ambient noise sviluppato in MATLAB e abbiamo rifatto girare i modelli di questo studio con un nuovo modello che è pubblicato su un altro lavoro chiamato Plan S etal 2019 e 2020 sul bacino ginevrino e vediamo che abbiamo sempre una varianza una varianza di almeno il 75% fino a mano a mano che andiamo sempre più in profondità fino a una varianza del 95% e la varianza è proprio l'aumento della varianza è proporzionale a quanto il modello iniziale il quanto il modello finale si discosta dal modello iniziale grazie grazie c'è anche un commento in chat ah scusate l'intrusione no no se posso chiederti una cosa ti volevo chiedere molto bello grazie grazie se per quanto riguarda la tettonica dell'Avanarco o comunque diciamo di tutta la zona in realtà dell'arco stesso avrei pensato anche un modello tipo bookshelf perché con il fatto che hai tante amostra slip e ce ne sono degli esempi soprattutto se vai più a nord diciamo se vai soprattutto nell'Averica centrale gli avanarchi sono deformati sì dalle immagini che ho fatto vedere qua in realtà queste immagini qua dov'è insomma una delle immagini iniziali l'ho ritagliata e ci ho levato il modello di bookshelf meccanism per l'Avanarco quindi è una di queste ma è una delle immagini iniziali dello studio dove l'ho messa questa immagine qua ecco questa qua in questa immagine qui in realtà era più larga e c'è un modello di bookshelf per mostrare tutta la deformazione che è stata registrata nell'Avanarco in realtà ci sono dei bei lavori anche del gruppo di Liverpool di l'autore Riedel che mostra proprio normal faulting e strike slip bookshelf mechanism per tutta questa regione qua quindi il terremoto del Maule ha avuto due main slip principali uno grosso modo qua e uno in corrispondenza del Peteroa e tutta questa zona qui è poi deformata a bookshelf ok grazie 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 c'era un Fabrizio Piana che ha scritto una domanda in chat magari Fabrizio vuole intervenire c'è Fabrizio? eccolo no Fabrizio non ti si sente devi attivare il microfono ok ciao grazie molto interessante no niente avevo fatto solo un commento così diciamo che è sempre più difficile l'analisi dei fault network fossili evidentemente quindi già avevamo molte difficoltà nel separare tra gli effetti del bulk strain da quelli dovuti alla ricomposizione all'interno dei blocchi e quindi agli effetti dello stress strain locale dobbiamo aggiungere anche il fattore tempo dove però il tempo non è un tempo geologico o meglio è un tempo istantaneo dal punto di vista geologico quindi la cosa si fa sempre più complicata insomma è un po grazie per questo commento sì in effetti è vero è un po' il problema di quando uno fa ricerca alla fine no pensi di essere vicino vicino e ritorni sempre più con più domande mi fa molto piacere questo perché in effetti avendo fatto per diciamo in gioventù per qualche decennio analisi di di faglie e fratture erano talmente tante le cose che non tornavano rispetto ai modelli teorici che pian piano capiamo il perché poi c'è un'altra componente che è la pressione dei fluidi quindi ah certamente certamente ma quella però diciamo siccome i fluidi lasciano evidenze di solito ce ne possiamo fare una ragione sì possiamo provare a convivere sì grazie molto grazie ti volevo chiedere una cosa ora non so se tanto chi vuole che ha da fare scappa mi sembra interessante questo disaccoppiamento sulla verticale tra le sorgenti magomariche profonde e gli edifici vulcanici che diciamo è un argomento abbastanza attuale che noi in laboratorio facciamo modelli su questo è interessante volevo capire se avete avuto modo mi rendo conto non sia facile capire quanto potrebbe essere calcolare l'offset cioè se c'è modo è chiaramente difficile collegare una camera magomatica a degli edifici vulcanici ma quantomeno al minimo quanto può essere la migrazione laterale del magma in profondità in termini di distanze allora questa è un'ottima domanda bellissima e un pochino ci stavamo pensando perché vediamo una cosa analoga Indonesia cioè vediamo fondamentalmente che tu hai l'arco e la propagazione del magma ti arriva 20-40 km in questo caso siamo nello stesso ordine di grandezza però questi sono dati di due due settori quindi è difficile stimarlo la mia la mia idea è che molti di questi sistemi sfruttino discontinuità crostali quindi si mettono in posto viaggino col dip dei sovrascorrimenti o delle strutture quindi se tu hai un sistema di subduzione quindi trust in questa zona e arco vulcanico qui questo si possa mettere in posto e poi viaggiare a seconda dei trust a gentle angolo ad angolo a basso angolo e questi si possono poi portare in far viaggiare il magno però non ne abbiamo veramente idea e ci stiamo basando appunto su una serie di pezzettini di puzzle che su osservazioni e piano piano le idee le domande aumentano ecco bene grazie ora non so se c'è qualcuno ancora e vuole fare domande se no direi che ti possiamo lasciare libero come un po'